Chi c'è dall'altra parte? Un fighetto molto elegante. L'avete visto? Non entro nel merito delle storie personali. Probabilmente la Rai sta preparando una fiction sulla coppia Macron. Sai che figata innamorarsi minorenne della tua professoressa. Qualcuno in Italia è stato processato per questo. Però paese che va e giustizia che trovi.